good morning mister anche se sono la luna ora di pranzo qui in italia mangerò più tardi ma questo è sempre un dettaglio mister master maestro o semplicemente o semplicemente david it's december 9 2021 and it's a tuesday in nipols 50th fahrenheit around 10 celsius e questo significa che non è quella giornata veramente 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 mite con questi giorni in questo periodo e infatti direi che sempre dei gradi meno oggi insomma penso che forse pensavo allo speciale il mio tributo tastiera di quest'anno giulia cruise a giuli cruis in cui caricherò penso un preview con tre quattro pezzi che già ho caricato lo scorso anno mesi fa in modo tale da consentire a chi non ha visto questi video passati appunto di rivedere e vedere le versioni complete questo penso a poi pensavo al mio napoli calcio che stasera la parte l'ultima partita decisiva europea non sarà facile passare le combinazioni bisogna dire quali sono le combinazioni per passare non è semplice ma confido comunque sempre nei suoi numeri vediamo un po' comunque diciamo come si già vedono ann sui vis då da città una volta sicuro no sun no beautiful low skies and golden sunshine sempre quella atmosfera nuvolosa come ha visto di sempre Che dire? Ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, la vedo un po' impossibile, ma ta solo e sui vi si. Quindi, say that it is so from the mythical window of the recorded curtain. Beautiful. Certo, tempo oscuro, tempo oscuro, ma comunque c'è questa luce diversa oggi che illumina di più la tenda, quindi beautiful, beautiful today. And it's green roller shooter, è inutile dirlo con enfasi, appunto dato il tempo. Però, come dicevo già ieri, non abbiamo those beautiful blue skies in colorenza di shine, ma abbiamo... The golden balls and white balls and objects dell'albero et fantastic giant tree, Christmas tree, I think pine tree, albero divino, E quindi, those fantastic giant golden balls, golden balls and white balls, possono consolarci al posto di those beautiful blue skies in golden sunshine, quindi, grazie a loro. Ovviamente, anche, from the mythical window of the white curtain and the gray shooter, from that other room, living room, and finally, from my mythical keyboard, Yamaha DGX, 640, IPG, IPG, 625. Eva, a great day in all the people of all of the channel and the reports. Sì, un saluto veramente a tutti. So again, I have a great day in all these people and everyone too. Nota, punto finale. Oggi ho parlato con Mino... Diciamo, non ho urlato, non ho alzato la voce, perché... Comunque ci sono le persone, un'altra stanza...